Buon pomeriggio a tutti cari amici, ebbene l'ultimo video poi in attesa di qualcun altro più tardi stasera parliamo della gara delle 12 di serie A1 primavera di calcio maschile Pescara-Atalanta finita 0-1 invece per la serie A femminile a mezzogiorno sono finite da poco Bari-Florenza 1-4 Tavagnacco-Milan 0-4 andiamo a dare un altro resocondo per la primavera maschile l'Atalanta è prima 48 punti il Pescara invece 14esimo zona play-out 15 punti al momento stanno giocando Juventus e Inter la Juve in vantaggio per 1-0 e sta agganciando adesso l'Inter al terzo posto a quota 34 punti mentre per quanto riguarda la serie A femminile il Milan è secondo qualificazione Champions League a 35 punti La Florenza è sesta a quota 21 punti seconda vittoria nelle ultime 5 partite il Bari è decimo a un solo punto di vantaggio sul Tavagnacco che è undicesimo a 9 punti zona retrocessione direttamente il Bari salvo per ora abbiamo detto per un punto decimo a posto a quota 10 punti grazie a tutti ci vediamo più tardi in serata ciao ciao ciao